Musica Oggi vi portiamo a Sibari nel parco archeologico dove nei mesi scorsi la soprintendenza ha effettuato una straordinaria scoperta che il museo ora con un laboratorio aperto al pubblico a fini didattico scientifici mostrerà appunto nelle prossime settimane dal passato alle nuove frontiere della robotica e in medicina vedremo cosa sta accadendo all'annunziata di Cosenz e poi con la nostra rubrica dove si va scopriremo i tesori di Pizzo Calabro e poi come di Consuelo del telegiornale il meteo e tanto altro ma adesso andiamo appunto a scoprire le novità di una delle perle del nostro territorio, il parco archeologico di Sibari all'interno del museo c'è Ilaria Raffaele, a te Ilaria Sì, buongiorno Marco, qui siamo letteralmente immersi nella storia, a pochi passi da dove ci troviamo c'è il magazzino strapieno di ritrovamenti ma la novità è alle mie spalle il progetto a cui facevi riferimento si intitola Mnemo Siune e porterà questo luogo a diventare un posto aperto al pubblico dove tramandare il peso di questa storia ma anche dove far conoscere le nuove tecnologie che vengono utilizzate per scoprire di più sulla storia che si trova qui a Sibari di tutto questo parleremo tra pochissimo con il direttore degli scavi di Sibari ma intanto ricostruiamo in questo servizio la storia di quest'ultimo ritrovamento e poi torniamo in diretta la scoperta a giugno scorso che ha lasciato a bocca aperta i ricercatori la necropoli di Turi, la colonia nata nel V secolo a.C. vicino alla più antica Sibaris continua a stupire e fa riemergere un reperto prezioso e raro nella tomba tra gli elementi di corredo i frammenti di una lamina aurea del tipo cosiddetto orfico ce ne sono appena pochi esemplari in Magna Grecia, a Creta e in Tessaia e nasconde una storia unica la foglia d'oro infatti era utilizzata come supporto di un testo con le istruzioni affinché il defunto potesse orientarsi nell'aldilà un'aura di mistero quella che avvolge questo tipo di oggetti su cui gli archeologi si stanno concentrando e il rinvenimento diventa un'occasione di conoscenza con il cantiere di ricerca e restauro visitabile e aperto al pubblico sarà una specie di open space in cui saranno eseguite le varie fasi del progetto un'antropologa effettuerà il microscavo della sepoltura contestualmente avverrà il restauro della copertura della tomba e del corredo che man mano potrà ancora venire alla luce in una terza postazione poi le indagini più approfondite con un microscopio elettronico e uno scanner tridimensionale obiettivo saperne di più sulla storia del defunto dal sesso all'età al momento della morte un'idea della sua provenienza geografica eventuali patologie lo status sociale un rinvenimento importante diventa così un'occasione di massima diffusione di conoscenza partecipazione del pubblico emozione e dunque lo dicevamo una scoperta sensazionale questo open space aperto al pubblico forse però è la prima vera novità di questo museo io sono con il direttore degli scavi di Sibari Filippo Demma innanzitutto questa scoperta quanto è sensazionale? il sensazionale è come diceva lei il laboratorio è la possibilità che diamo al pubblico e che per la prima volta si dà al pubblico di entrare nella scoperta il rinvenimento è naturalmente importante il corredo di questa tomba che non è stata ancora completamente indagata e dunque riserva ancora molte sorprese è un rinvenimento assolutamente eccezionale laminette d'oro con incise le istruzioni per il defunto per attraversare l'aldilà sono oggetti molto molto rari e che soprattutto sono stati rinvenuti nel passato in contesti a noi non noti cioè abbiamo pochissime informazioni sui contesti funerari, sulle tombe da cui provengono queste importanti testimonianze storiche e per la prima volta invece qui abbiamo la possibilità di indagare le persone che portavano di indagare sulle persone che portavano con sé questi oggetti nella tomba e quindi dicevamo nel servizio che voi un po' come dei novelli si esai state cercando di fare il profilo al defunto sì ieri per esempio abbiamo scoperto che è una defunta e quindi speravamo fosse femmina in realtà è femmina e ce lo dicevano un po' i primi oggetti di corredo che sono stati rinvenuti nella parte scavata della sepoltura e però ieri l'antropologa ha fatto le sue equazioni le sue misurazioni e ha stabilito dalle ossa del bacino che in realtà si tratta di una signora e sì in questo laboratorio aperto al pubblico avverranno anche le analisi preliminari le prime analisi sia sui reperti osse e quindi sullo scheletro sia sulle terre che lo ricoprono e quindi potremo appunto come la scientifica dei telefilm e delle serie tv indagare su chi fosse quanti anni avesse che cosa mangiasse se aveva avuto nella sua vita patologie particolari se siamo fortunati capire come sia morta se appunto queste le cause di morte hanno lasciato tracce nello scheletro un brevissimo accenno alle nuove tecnologie che state utilizzando perché sono importanti sì intanto la documentazione verrà effettuata con le tecniche più moderne cioè i rilievi saranno fatti con un laser scanner tridimensionale ogni livello che verrà individuato di copertura che verrà individuato dall'antropologa durante lo scavo verrà documentato con un laser scanner con un rilievo 3D assolutamente preciso e dunque il lavoro è appena iniziato torneremo tra poco per raccontarvi però di tutto il museo di Sibari e degli scavi linea a te Marco e chissà cosa ci svelerà la laminetta orfica quando sarà aperta e decifrata allora dal futuro facciamo un ritorno al passato andiamo in quello scrigno di tesori che sono il museo e il parco di Sibari dove c'è Ilaria Raffaele Ilaria sì Marco il museo è uno scrigno di tesori come giustamente dici tu ma ci sono anche gli scavi un pezzo fondamentale di storia di questa parte di Calabria e della Sibaritide è un tesoro però che negli anni è stato costantemente minacciato dagli allagamenti e ricostruiamo gli ultimi drammatici episodi in questa scheda e poi torniamo in diretta uno dei nemici degli scavi di Sibari la pioggia il primo terribile allagamento nel 2013 troppo vicino il fiume Crati troppo poca la manutenzione degli argini e così basta una normale ondata di maltempo la perturbazione morgana dieci anni fa perché il disastro si compia il parco archeologico completamente sommerso dall'acqua e dai detriti immagini indelebili nella memoria di chi ha a cuore i preziosi reperti e il consorzio di bonifica a mettere a disposizione nell'emergenza le sue pompe idrovore per tornare al più presto alla normalità cinque anni dopo però si torna a punto e a capo il blackout elettrico fa smettere di funzionare le macchine che dovevano aspirare l'acqua in eccesso inutili le trincee drenanti installate per evitare nuovi disastri eppure dopo 20 milioni investiti e la riapertura appena un anno prima nessun provvedimento per evitare nuovi allagamenti era stato preso sull'incuria del bacino idrico aveva aperto un'inchiesta alla procura di Castrovillari il ministero dei beni culturali aveva istituito un tavolo tecnico Sibari però è ancora ostaggio del terrore che viene dal cielo Allora approfittiamo della presenza del direttore degli scavi di Sibari Filippo Demma abbiamo visto immagini drammatiche 2013-2018 due allagamenti terribili per gli scavi di Sibari adesso qual è la situazione? Adesso la situazione naturalmente è sotto controllo il problema di Sibari oltre alla grande vulnerabilità dovuta alla vicinanza del crati al dissesto idrogeologico generalizzato è la falda acquifera particolarmente alta se non fossero attive 10 pompe idrovore con 10 well point H24 7 giorni su 7 con un notevole costo di energia elettrica e gli scavi sarebbero e quindi la falda fosse lasciata libera di tornare al suo livello gli scavi sarebbero sepolti cioè sarebbero sommersi da almeno un metro e mezzo d'acqua è una situazione naturalmente emergenziale molto costosa dispendiosa ma anche assolutamente a rischio per cui abbiamo già nei mesi scorsi strutturato un master plan per la soluzione definitiva di questo problema e che è stato portato avanti da un ingegnere calabrese molto bravo Nilo Domani che è noto in tutto il mondo il master plan è diventato una scheda progettuale per un primo stralcio finanziata dal Ministero della Cultura sui fondi dei grandi progetti bene culturali stiamo affidando la progettazione esecutiva che sarà affidata entro la settimana prossima immediatamente dopo l'estate dovremo avere il progetto esecutivo del primo stralcio che metterà in sicurezza finalmente il parco archeologico di Siberi e possiamo dirlo davvero finalmente perché Siberi se l'è vista davvero brutta in quegli anni assolutamente abbiamo celebrato così questa triste ricorrenza del decimo anniversario che lei ha menzionato prima dell'ultima inondazione e abbiamo fatto un appello alla partecipazione al nostro pubblico che ci sta inviando foto, video, testimonianze dell'epoca il nostro ufficio stampa sta intervistando i personaggi che all'epoca accorsero a Siberi il ministro Barca il sindaco Papasso che all'epoca era qui sta rilevando tutte le testimonianze e a breve in primavera prima avremo raccolto tutto il materiale faremo una bella mostra con il materiale inviatoci dal nostro pubblico per ricordare e anche per dire che la prevenzione patrocinata probabilmente dalla protezione civile anche per dire che la prevenzione nel campo in questo campo nel campo del discesso idrogeologico e dei fenomeni naturali è assolutamente l'unico modo per procedere un altro modo per aprirvi al pubblico insomma possiamo dire che questa è la chiave distintiva di questo museo ci fa piacere che lo diciate questa è la chiave distintiva di questo museo noi vogliamo essere la casa del nostro pubblico vogliamo che il pubblico non venga non vogliamo che il pubblico venga a visitarci noi vogliamo che le persone ci frequentino frequentino il museo frequentino il parco archeologico vengano a fare cultura con noi questa è un'occasione questa del laboratorio della memoria di un'emozione è una delle prime occasioni ma vogliamo che ci invino il loro materiale vogliamo che vivano il museo e nel museo e che facciano vivere il museo e a questo proposito domenica ci sarà la domenica al museo assolutamente l'iniziativa del ministero della cultura degli ingressi gratuiti che sarà naturalmente una buona occasione per venire a visitare il laboratorio che sarà aperto sabato e domenica chiudiamo solo il giorno di Pasqua anche Pasquetta saremo aperti quindi potrete venire a visitare il laboratorio e assistere agli scavi in diretta anche nel giorno di Pasquetta saremo aperti domenica ingresso gratuito e poi con il costo normale incluso nel biglietto grazie al direttore degli scavi di Sibari Filippo Demma dunque tanti tesori da scoprire le aperture sono tante domenica quella gratuita ve lo ricordo e con questo è tutto linea a te Marco allora grazie Ilaria Raffaele alla soprintendenza per questo ritrovamento e al direttore Filippo Demma per tutto quello che sta facendo per rendere fruibile davvero uno dei presidi culturali del nostro territorio vi casano vi picci vi chiamo vi chiamo vi chiamo